regionale per i suoi, dove si sono registrati fino a 60 mm di pioggia, un bifragio a Casciana Terme. Allagamenti anche alla stazione di Livorno con ripercussioni sulla linea ferroviaria Pisa-Roma, a causa della tanta pioggia caduta stamani con i binari sotto l'acqua. La circolazione dei treni è stata rallentata a partire dalle 5 fino alle 8. Dal comune di Livorno si spiega che a causa delle forti piogge via Firenze e via provinciale Pisana sono state chiuse. C'è stata anche una tromba d'aria che ha colpito la zona sud facendo molti danni ad auto e a strutture. Distrutta la tendostruttura di un circolo del tennis e danni anche al campo di baseball. Diversi alberi sono caduti e molte auto e scooter che erano posteggiati sono risultati danneggiati. E sopra al luogo a Palazzuolo sul Senio stamani del commissario alla ricostruzione post alluvioni in Emilia Toscana e Marche, il generale Figliuolo. A Palazzuolo sul Senio uno dei territori più danneggiati dal maltempo di maggio sull'Appennino tosco romagnolo nonché comune più distante da Firenze e confinante con la Romagna. Il generale ha tenuto una riunione nella sede del comune insieme al sindaco ascoltando direttamente dai cittadini i problemi causati dai danni del maltempo, in particolare alle strade di montagna che hanno subito frane con importanti limitazioni a collegamenti e ai trasporti. E in una nota a Coldiretti Toscana scrive l'arrivo del maltempo ha fatto salire a 40 il numero di bombe d'acqua che si sono abbattute sulla Toscana dall'inizio dell'anno creando enormi disagi alla popolazione, allagamenti e danni alle campagne. C'è una persona sottoposta a fermo per l'incidente mortale avvenuto a Firenze in via Gioberti la notte tra il 16 e il 17 ottobre. Si tratta del conducente della moto che poi è risultata rubata, che viaggiava in contromano e che ha travolto l'auto su cui viaggiava Lorenzo Brugioni, 43 anni, morto a causa dello scontro. Tre le persone che viaggiavano sulla moto, una delle quali è riuscita a scappare, mentre le altre due sono state portate in ospedale. Il fermato è attualmente ricoverato al policlinico di Careggi. Il decreto di fermo sarà trasmesso alla procura, omicidio stradale, il reato ipotizzato proprio dalla procura. E avrebbe aggredito alle spalle una donna per strapparle la borsa e una catenina dal collo. Le urla della vittima hanno però richiamato l'attenzione di alcuni passanti e per il presunto autore della tentatrapina è stato poi arrestato e ha caduto martedì sera a Firenze nel quartiere di Castello dove sono poi intervenuti i carabinieri. E dopo via Giorgio Almirante a Grosseto la maggioranza del Consiglio Comunale di Lucca in un vergognoso spettacolo di schiamazzi a noi ha bocciato l'intitolazione di una strada a Sandro Pertini, comandante partigiano e presidente della Repubblica. Un'intollerabile offesa all'immagine della massima carica dello Stato oltre che alla resistenza. Siamo una deriva anticostituzionale e fascistoide che va immediatamente fermata con l'unità e l'azione di tutte le forze democratiche. Così dichiara il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani. Il sindaco di Firenze ha detto credo che fare manifestazioni contro in un momento così delicato e difficile che abbiamo nel Medio Oriente con un allerta terrorismo che si alza in tutte le nostre città e in tutti i paesi di Europa con morti civili da ambole parti è il rischio di una escalation che allarghi il conflitto su tutta la regione medio orientale rappresenta una pericolosa provocazione. Queste sono le parole del sindaco di Firenze a proposito della manifestazione annunciata per il 4 novembre a Milano dal leader della Lega Salvini a difesa dei valori occidentali. Il ministro Adolfo Urso oggi a Sesto Fiorentino per un'iniziativa ha detto stiamo lavorando come sapete a rendere compatibili gli investimenti di un gruppo indiano Jindal con quelli di un altro investitore straniero. Sono ore decisive. sta parlando delle acciaierie di Piombino. E invece il presidente della regione toscana Eugenio Gianni parlando degli investimenti dei soldi che dovrebbero arrivare dal governo per la sanità ha detto la montare delle nuove risorse messo nella legge di bilancio per la sanità era una minima parte di quanto necessario così il presidente Gianni è una boccata di ossigeno ma ancora siamo davvero nelle ancora siamo davvero nelle condizioni di dover avere altre risorse se vogliamo mantenere il sistema sanitario così come è. Sorpresi a bordo di un'auto rubata due diciassettenni e un diciottenne sono stati denunciati dai carabinieri. È accaduto a Sesto Fiorentino la notte tra sabato e domenica quindici ottobre. Esciò però domani sarà un venerdì a rischio nel settore dei trasporti pubblici e per chi viaggia in treno con i disagi che riguarderanno soprattutto i pendolari. E i disagi potrebbero esserci anche nel settore aereo in quello della sanità delle scuole dello smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda le ferrovie l'assenzione di 24 ore dal lavoro partirà dalle 21 di questa sera e riguarderà il gruppo ferrovie dello Stato Italo e Treno Nord. E ora vediamo come sarà il tempo domani sarà molto nuvoloso con locali piogge soprattutto nella mattinata. I venti sono forti meridionali soprattutto sulla costa. i mari sono molto mossi mentre le temperature sono in ulteriore aumento con valori superiori alla media. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti e arrivederci.